Amici dello streaming del cinema, questo pomeriggio ci troviamo al centro commerciale Poseidon a Villa Grazzi di Carini, in provincia di Palermo, in occasione dell'evento importante con Clara Soccini, che farà l'attrice e cantante, firmerà le cose del suo nuovo album, Primo. Voglio sentire, voglio, che la chiamiate tutti assieme, Clara! Grazie a tutti! Voglio sentire che c'è la terra più calorosa che ci sia, bellissimo, davvero, bellissimo. Anzitutto, Clara, grazie da parte del Poseidon perché sei qui, perché per noi è una grandissima soddisfazione, un grandissimo orgoglio. Io amo la Sicilia, non potrebbero non venire, non venivo da quest'estate, quindi, top! Puoi sentire che tu, Clara, puoi venire quanto vuoi! Grazie! Anche se vediamo tutti i giorni, la faccia la metto su perché mi è stato tardissimo!